Emergenza sanitaria epocale, il coronavirus è nemico da sconfiggere ma si può morire anche di altro. A lanciare il grido d'allarme Simone Di Tola di Rocca San Giovanni, padre della piccola Francesca, bimba autistica in sindrome di Rett, per via del coronavirus è stata costretta a non poter più usufruire dei servizi di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale di Chieti, dove grazie all'idrochinesi e ad altre tecniche stava migliorando la sua scoliosi con la conseguente riduzione dell'iperventilazione e il miglioramento della sua capacità motoria. Ad oggi la piccola Francesca ha crisi epilettiche, non parla, la sua riabilitazione è stata interrotta eppure sul sito del Ministero della Sanità denuncia il padre, si parla di assistenza per i disabili, anche scolastica, ma come sempre non è stata attivata. Le famiglie con disabili sono dunque disperate. Io ho lanciato un appello al Comune di Rocca San Giovanni affinché mia figlia non possa regredire, perché si può morire di coronavirus ma anche di altro e la situazione è grave per noi famiglie con disabilità e io lo posso dire apertamente avendo quattro figlie con una disabilità in casa e con mia figlia Francesca. Quindi questo è il momento, è il momento per noi famiglie con disabilità che ci troviamo in uno stato di disperazione, di chiedere e soprattutto di pretendere dei diritti che noi abbiamo, tra cui una di queste è l'assistenza scolastica domiciliare che il Comune di Rocca San Giovanni dovrebbe attivare anche subito, dato i decreti del Presidente della Presidenza del Consiglio. Quindi abbiamo la necessità, il bisogno che questo appello non vada inascoltato. Per adesso nulla, nulla. In quanto ho provato, ho provato a chiedere ai diversi operatori che se ne interessano del Comune e della scuola, eccetera, ma nulla si è mosso. Io chiedo anche la possibilità in questo intervento della ASL per poter ottenere un fisioterapista che possa non far regredire la scogliosi di mia figlia. Ma questo è uno dei punti. Avrebbe bisogno di una terapia globale Francesca e questo noi l'abbiamo ottenuto attraverso una sentenza di un tribunale e grazie a questo ringrazio pubblicamente l'Autismo Onus, l'Associazione Autismo Onus che ci ha permesso a noi famiglie di effettuare questa cosa insieme a diverse persone che ci hanno permesso di ottenere questa terapia globale domiciliare a casa ma che ancora se ne vede diciamo all'orizzonte in quanto è aggrappato a una firma di un burocrate come sempre.